Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi scopriremo insieme Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti nasce nel 1888 ad Alessandria d'Egitto, però i genitori sono originari di Lucca. A Lucca la famiglia di Ungaretti gestiva un forno di pane. Il padre di Giuseppe muore nel 1890, mentre sta all'estand ed è operaio agli scavi del canale di Suez ed è vittima di un infortunio sul lavoro. Vivere per più di vent'anni in Egitto, anche se Ungaretti è figlio di italiani e quindi frequenta anche altri italiani, gli permette di avere una istruzione internazionale. Fino al 1905 frequenta l'école suisse Jaco e inizia ad interessarsi e appassionarsi alla letteratura. Nel 1912 si sposta poi a Parigi, dove frequenta il Collège de France e la Sorbonne, interessandosi al decadentismo e al simbolismo francese. Vi lascio qui sopra il nostro video sul simbolismo e sul decadentismo. Nel 1914 inizia a prendere contatto con i futuristi fiorentini e dal 1915 inizia a pubblicare le sue prime poesie sulla Cerba. Come altri poeti, anche Ungaretti partecipa alla guerra. Infatti nel 1914 torna appositamente in Italia per parteciparvi. Si arruola come volontario in un reggimento di fanteria. Combatte sul Carso, dove prende forma la raccolta Il Porto Sepolto del 1916. Questi versi appaiono nell'Allegria di Naufragi del 1919. Le due raccolte confluiscono poi nell'Allegria del 31. Dopo aver combattuto in Francia nel 1918, alla fine del conflitto, Ungaretti si trova a Parigi, dove nel 1919 sposa Jeanne Dupois. Tornerà poi a Roma nel 1921, dove aderirà al fascismo, convinto che il fascismo possa rafforzare la solidarietà nazionale. Inoltre, nello stesso periodo, collabora a diversi periodici e anche riviste italiane. Dal 1936 al 1942, Ungaretti ricopre la cattedra di letteratura italiana presso l'Università di San Paolo in Brasile. Rientra in Italia e insegna sempre letteratura, però, all'Università di Roma, diventando anche accademico d'Italia. Il 37 per Ungaretti è un anno molto difficile, un anno complesso, in quanto perde il fratello e, due anni dopo, il figlio molto giovane. Da questa esperienza nasce la raccolta Il Dolore del 1947. L'edizione completa dei suoi versi è pubblicata da Mondadori nella raccolta Vita di un uomo. Muore a Milano nel 1970, tra il primo e il due giugno della notte. Il titolo Vita di un uomo sottolinea proprio il carattere autobiografico, la ricerca del tempo perduto. È lo stesso Ungaretti ad affermare Io credo che non vi possa essere né sincerità né verità in un'opera d'arte se, in primo luogo, tale opera d'arte non sia una confessione. E questa frase, in particolare, ci fa capire, questo pensiero ci fa capire qual è l'essenza della poesia del poetare secondo Ungaretti. Per Ungaretti la poesia è come una illuminazione. Infatti il poeta è una sorta di sacerdote della parola. È un essere privilegiato in grado di cogliere in essi, quindi i legami, segreti tra le cose. Il mistero della vita può soltanto essere illuminato grazie alla forza della parola poetica. Ungaretti, in ragioni di una poesia, dice Oggi il poeta sa e risolutamente afferma che la poesia è testimonianza di Dio, anche quando è una bestemmia. Oggi il poeta è tornato a sapere, ad avere gli occhi per vedere. Gli aspetti formali della poesia di Ungaretti sono la distruzione del verso tradizionale, la parola che risuona nel silenzio e i modelli lessicali, che sono Petrarca e Leopardi. Per quanto riguarda l'allegria, le vicende editoriali sono complesse. Diciamo che possiamo fare però una sintesi complessiva nel dire che abbiamo tre fasi che poi portano alla edizione definitiva. Il primo nucleo, che è il nucleo del Porto Sepolto del 1916, l'allegria di Naufrage del 1919 e poi l'allegria vera e propria del 31 e del 42. Quindi queste sono le vicende editoriali per sommi capi della raccolta di Ungaretti. Il titolo Il Porto Sepolto allude a qualcosa di segreto, un segreto che rimane dentro di noi e che è indecifrabile, anche se questa definizione ha una fonte e viene proprio dal racconto di due amici francesi che ci racconta lo stesso Ungaretti. Dice Mi parlavano di un porto, un porto sommerso, che doveva precedere l'epoca tolemaica, provando che Alessandra era un porto già prima d'Alessandro, che già prima d'Alessandro era una città. Non se ne sa nulla. Quella mia città si consuma e sa nienta d'attimo in attimo. Come faremo a sapere delle sue origini se non persiste più nulla nemmeno di quanto è successo un attimo fa? Non se ne sa nulla. Non ne rimane altro segno che quel porto custodito, quindi sepolto, in fondo al mare, unico documento rattramandatoci d'ogniera d'Alessandria. Il secondo titolo, Allegria di naufragi, è un ossimoro. I due termini sono spiegati da Ungaretti. L'allegria è una sorta di esultanza di un attimo, un'allegria improvvisa, mentre il secondo termine indica l'effetto distruttivo della morte e come tutto sia travolto, soffocato e consumato dal tempo. L'opera è suddivisa in cinque sezioni. Ultime, il porto sepolto, naufragi, girovago e prime. Notate che inizia con ultime e finisce con prime. Ultime raccoglie i testi dal 14 al 15 e sono testi ultimi perché? Perché ancora legati ad una fase precedente. Il porto sepolto, invece, come abbiamo già accennato, racconta l'esperienza di Ungaretti sul fronte carsico, quindi tra il dicembre del 1915 e l'ottobre del 1916. Il motivo centrale è la ricerca della poesia. Naufragi contiene le poesie di guerra composte tra il dicembre del 16 e l'agosto del 17. Girovago, le esperienze, invece, tra il marzo e luglio del 1918 sul fronte. Prime è intitolata in questo modo perché prelude alla stagione poetica successiva. Quindi primo di qualcosa che deve ancora venire o che sta per arrivare. I temi che emergono nella poetica ungarettiana sono l'infanzia e l'adolescenza del poeta che, abbiamo detto, è stata trascorsa ad Alessandria d'Egitto. Il deserto, il miraggio, le cantilene arabe. Altri elementi che ricorrono sono il mare, il porto, i viaggi, quindi legati anche alla vicenda dell'emigrante. Il nomadismo, le straneità, l'esilio e, chiaramente, l'esperienza del fronte. Su questi temi Ungaretti rovescia la sua esperienza di guerra. Dice in una nota al testo Non amo la guerra, sono un uomo della pace. Sembrava che la guerra si imponesse per eliminare la guerra. L'allegria è una sorta di diario di guerra. Quasi tutti i testi hanno una data e un luogo in cui sono stati composti. Un esempio vedete qui nella poesia Soldati, che è famosissima, Bosco di Courton, luglio 1918. Ungaretti vuole rappresentare un'esperienza privata, però non si accontenta della sua esperienza come singolo, vuole allargarla e stenderla all'umanità tutta. Attraverso l'esperienza comune del dolore, cerca di recuperare la vera essenza dell'umanità. Ungaretti non ha in odio il nemico, ma prende coscienza della condizione umana, perché fare la guerra significa essere costantemente davanti alla morte, ma questo ci fa anche capire qual è il valore della vita. In questa condizione estrema cadono le maschere, è anche più facile interrogare se stessi, raggiungere l'essenza delle cose. Il porto sepolto è una delle mie poesie preferite di Ungaretti e porta il titolo dell'omonima raccolta. Ha valore programmatico e sono versi che ci parlano della vita dell'autore e anche della città in cui è nato Alessandria d'Egitto. Il titolo del componimento spiega il luogo in cui arriva il poeta, la meta di un viaggio introspettivo. Questo porto, definito da Ungaretti sepolto, è un'immagine carica di simboli. L'aggettivo sepolto porta con sé l'idea di un mondo sotterraneo, di un mondo negli abizi e anche di un mondo precedente. È un porto antico che ci ricollega al tempo della nascita di Alessandria e che ha in sé un segreto inesauribile. Questo segreto, il porto, è ciò che la poesia riesce a riportare alla luce con i suoi versi. La poesia viene dispersa poiché, invece di custodire i suoi testi, il poeta li comunica agli altri, li condivide, fa partecipare l'umanità della sua parola poetica. Ricorda qui il poeta la Sibilla Cumana, che nell'Eneide disperde le foglionine d'oro su cui trascrive le profezie del dio Apollo. L'idea dell'indagine e della discesa ci riportano però anche ad altri miti, per esempio al mito di Orfeo, Orfeo il cantore e il poeta musico amante di Euridice, il quale discende nell'Ade per riportarla in vita, ma che però si volta e perde la sua amata per sempre. Così come Orfeo, Ungaretti si immerge però nel porto sepolto e ne riemerge con tutte le sue poesie. In Veglia troviamo l'esperienza di trincea del poeta, che veglia per una notte intera il cadavere di un compagno. Siamo il 23 dicembre 1915. La morte e la vita sono avvicinate dalla congestione delle mani del soldato ucciso e impresse nel silenzio del poeta. In questa veglia lotturna Ungaretti scrive lettere piene d'amore, mostra l'attaccamento alla vita che è espressione poetica dell'istinto vitale. Ogni parola in questa poesia è ricca di significato, se presa isolatamente. Infatti questa ricerca espressiva è definita parola scavata, quindi una parola essenziale, scarna, che deve riportare alla luce quanto è sepolto nel profondo dell'anima. Mattina, anche questa poesia è ormai iconica, e il titolo è parte integrante del testo, originariamente doveva chiamarsi cielo e mare. La vista di uno spazio immenso illuminato nella luce del mattino evoca al poeta l'infinito. Mi illumino d'immenso. A tale sensazione esterna corrisponde un sentimento e il nesso che lega al sentimento è analogico. Come vediamo, il simbolismo di Ungaretti ci propone una concezione orfica. Il poeta ha una illuminazione che gli permette di attingere all'infinito. In questa lirica emerge anche l'unanimismo, quindi il mondo è pervaso da un'unica anima e tutti gli esseri viventi sono partecipi di quell'anima. Questa idea rimanda anche alla filosofia ellenistica, se vogliamo. Adesso lascio la parola a Ungaretti che ci leggerà un po' della sua poesia I fiumi. Questi sono i miei fiumi, questo è il serchio al quale hanno attinto duemila anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure. Questa è la senna e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. La lirica presenta tre momenti. La sera e la calma del paesaggio lunare, la rievocazione del bagno nell'isonzo e le tenebre della notte. All'inizio della lirica la natura è violentata dalla guerra e il poeta si sente vuoto e perso, però in lui resta qualcosa di prezioso, una reliquia. Il poeta si abbandona tra le acque del fiume Isonzo, che lo leviga e lo accarezza come se lui fosse una reliquia, un sasso. In seguito egli si alza e cammina, un po' precario, per poi chinarsi e fare una preghiera al sole. Nell'isonzo Ungaretti si riconnette all'universo, in quanto creatura del mondo. La memoria riconduce il poeta ai fiumi del suo passato, il serchio che rimanda alla terra d'origine della sua famiglia, il nilo che lo ha visto nascere e crescere, e la senna, dove ha acquisito coscienza spirituale e anche consapevolezza artistica. L'isonzo è il simbolo del presente, il poeta si immerge tra le sue acque e si sente in armonia. Fa poi un viaggio alla scoperta di sé, nella luce del mattino, e si espande anche nella notte. La notte è una corolla di tenebre, della vita, che è angoscia. Le ultime due liriche di cui vi voglio parlare sono Fratelli e San Martino del Carso, che rievocano l'esperienza di Ungaretti sul fronte. La poesia Fratelli, datata 15 luglio 1916, si apre con un incoraggiamento alla fratellanza e anche con una domanda. Una domanda che sottolinea la fragilità e la vulnerabilità degli uomini mandati al massacro. Di che reggimento siete, fratelli? Questa domanda mostra e si fa strada nello spiraglio di salvezza, ed è anche un'invocazione alla fratellanza. L'aria è spasimante, rimanda e riflette la condizione di pena e di agitazione che si prova sul fronte. Quando gli uomini sono mandati al massacro e si sentono impotenti dinanzi alla morte. Nella lirica rimane la ricerca ungarettiana di una poesia essenziale, pura, che sveli l'assoluto. Traspare anche una fiducia nella parola poetica, che è capace di attingere alla verità. La poesia si identifica con l'io profondo del poeta. Siamo il 27 agosto del 1916 e Ungaretti ci racconta che cos'è accaduto a San Martino del Carso. San Martino è stato devastato dalle bombe e del paese è rimasto solo qualche frammento di muro. Tutto il dolore della guerra confluisce nel cuore di Ungaretti. Il paesaggio è descritto con riferimento a pochi dettagli e ha subito una violenza disumana proprio da parte dell'uomo, che dovrebbe invece essere umano. La spaventosa realtà della guerra e della morte è espressa tramite un'analogia. Le macerie di San Martino sono il simbolo del cuore del poeta, straziato. La morte dei compagni è interiorizzata e non affiora lo scatto, il desiderio alla vita. Nella lirica abbiamo anche un riferimento a Ugo Foscolo. Tra morti e vivi esiste un sentimento di empatia e affinità. Dal 1919 Ungaretti scrive altre poesie che inserirà nel Sentimento del Tempo, opera pubblicata nel 1933 che mostra un mutamento di prospettiva rispetto all'allegria. Qui Ungaretti mostra un modo diverso di intendere il tempo e siccome una durata, quindi rimanda al concetto di Henri Bergson per quanto riguarda la durée, cioè il tempo vissuto soggettivo, non il tempo spazializzato delle lancette dell'orologio. E questa durata è causa del mutare di tutte le cose in un processo continuo di distruzione e rinascita. Secondo Ungaretti, nel Sentimento del Tempo ci sono tre modi di sentire il tempo. Sente il tempo nel paesaggio come una profondità storica. Sente il tempo anche pensando al destino dell'uomo, soprattutto quando vede la civiltà minacciata della morte. Infine sente il tempo accorgendosi dell'invecchiamento e del perire della sua stessa carne. I modelli e i temi sono il recupero delle forme tradizionali, la lezione di Petrarca e Leopardi, che trovavamo anche nell'allegria, il motivo del viaggio e il motivo religioso. Nel 1947 Ungaretti pubblica Il Dolore, in cui sono comprese le poese scritte dopo Il 33. In questa raccolta emerge il suo profondo dolore e la sua profonda lacerazione. Ormai il poeta sa cosa significhi la morte. E questo dolore non finirà più di straziarlo. Abbiamo infine La Terra Promessa, pubblicata nel 1950, che è l'abbozzo di un melodramma che rimanda alle vicende di Enea, alle sue imprese gloriose, anche all'amore per Didone, compresa la morte dell'eroina, e il taccuino del vecchio del 1961, che comprende le poesie dal 52 al 60. Spero che il mio video vi sia piaciuto e auspico di riuscire a fare delle analisi più puntuali delle poesie di Ungaretti in futuro. Vi ricordo di lasciare un mi piace di supporto e di iscrivervi al canale. Grazie.